Matrimonio Harry e Meghan Markle, quanto costa l'abito da sposa? Rivelati altri dettagli sulle nozze sabato 19 maggio 2018 sarà il grande giorno. Ancora una volta i sudditi di sua maestà si fermeranno per ammirare una sposa e che sposa, il principe Harry celebrerà la sua unione con Meghan Markle. Per quello che sarà senza dubbio uno dei matrimoni dell'anno, per il mondo della cronaca rosa, e sicuramente il matrimonio dell'anno per il Regno Unito. La cerimonia sarà celebrata sabato 19 maggio intorno alle 12, tutto dipenderà dal ritardo della sposa, il matrimonio sarà celebrato presso la chiesa di St. George's Chapel, Windsor Castle, chiesa dove Harry è stato battezzato. In questi giorni sono stati rivelati molti dettagli sul matrimonio di Harry e di Meghan, pensate che si parla anche della cifra che le famiglie e i due sposi spenderanno per questa celebrazione. Pare che l'intero matrimonio verrà a costare 35 milioni di euro. Non ci resta che scoprire adesso quelli che sono i costi di abito da sposa, torta nuziale, inviti, bomboniere, fiori e altri dettagli che non possono mancare in un matrimonio reale che si rispetti. Il matrimonio Di R.M.A.G.H.N. Markle, quanto costeranno le nozze? Gli inviti sono stati spediti, la torta è stata già scelta e verrà fatta da una pasticceria dell'East London per la modica cifra di 50 mila sterline. Immancabili ovviamente i sausage rolls, le salsiccette ricoperte di pasta frolla che sono d'obbligo a qualsiasi parte inglese che si rispetti. Il prezzo Solo 30 mila sterline E se il costo del ricevimento ancora è incerto? Possiamo invece dirvi quanto costerà il vestito da sposa di Meghan? Stando alle ultime indiscrezioni riportate dai media britannici, il vestito avrà un costo di 400 mila sterline per un abito di Ralph & Russo. Le spese del matrimonio di Harry e Meghan, chi pagherà, per il matrimonio? Mentre tutto questo verrà pagato dai Windsor, il dispiegamento di forze dell'ordine per la sicurezza, che costerà altri 30 milioni di sterline, sarà invece a carico dei contribuenti britannici. Secondo quanto riferiscono i media britannici la famiglia di Meghan potrà comunque partecipare alle spese richieste dalla coppia per l'organizzazione di questo matrimonio, pare che gli invitati saranno 600. Per quanto riguarda i loro ruoli, William dovrebbe essere quello che in inglese viene definito, il best man, il testimone di Harry anche se Qualche settimana fa, aveva scherzato dicendo che suo fratello non glielo aveva ancora chiesto, poi ci saranno anche alcuni amici d'infanzia di Harry. Sicuramente da Mijella la piccola Charlotte, mentre il paggetto sarà il piccolo George. I due figli di Kate Middleton e William d'Inghilterra si sono esercitati già lo scorso anno al matrimonio di Pippa Middleton e adesso si preparano per essere di nuovo al centro dell'attenzione. Per quanto riguarda invece le damigelle di Meghan, pare che la bella attrice abbia già scelto una sua collega e amica della serie Suits e altre amiche meno famose.